Domenica 6 gennaio alle 18 presso il Munda e il Museo Nazionale d'Abruzzo ci saranno le cantrici di Euterpe dirette da Maria Antonietta Cignitti con Gabriele Pro e Martina De Senza ai violini, Cristina Ternovec alla viola da gamba e Antonio Pro alla tiorba e la chitarra barocca. Il concerto si chiama Ennato all'Ellulia e condurrà l'ascoltatore in un viaggio musicale tra l'Italia e l'Europa del tardo rinascimento e del primo barocco attraverso l'esecuzione di laude, mottetti e brani natalizi dell'epoca. L'inno gregoriano Poernatus aprirà il concerto e accanto alle laude natalizie di Francisco Soto de Langa e Celso Cantore musicista dell'Oratorio dei Filippini saranno eseguiti brani strumentali e vocali del Seicento tra cui il suggestivo mottetto del compositore abruzzese Bonifacio Graziani, Amici Pastori. L'ensemble eseguirà a conclusione del concerto quando nascette Ninno composto da Sant'Alfonso Maria De Liguori che esprime con un carattere dai forti connotati partenopei tutta la gioia della nascita di Gesù. L'ingresso sarà libero. Gli appuntamenti però non terminano qui perché ci sarà anche il teatro amatoriale 4, 5 e 6 gennaio. Al ridotto del teatro comunale va in scena Pretatti e Camponeschi la favola medievale di Franco Villani con la direzione artistica di Rossana Crisi Villani. La compagnia teatrale Il Gruppo dell'Aquila fondata nel 1979 da Rossana e Franco Villani che quest'anno festeggia il quarantennale della fondazione inizierà la nuova stagione teatrale con una commedia, due anni in dialetto aquilano, di pura fantasia ma che vede protagoniste due famiglie aquilane i Pretatti e Camponeschi appunto che combatterono aspramente fra loro per il potere e il predominio negli affari nella città dell'Aquila.